Grazie a tutti. 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 Buonasera signora, in centro storico, periodo di saldi, lei ha comprato? Poca roba, poca roba perché con la crisi che c'è non sono neanche invogliata Alla fine ha speso quindi meno rispetto alla nostra Sì, ha speso molto meno, ha speso molto meno Quel poco che ho voluto comprare l'ho aspettato che venissero proprio i saldi Secondo lei quale sarebbe la soluzione? Ne vede? La soluzione? Che il governo si dia una regolata La soluzione? Noi non la possiamo trovare perché siamo le vittime di questa situazione La soluzione? La soluzione? Non lo so, che i commercianti comincino a abbassare i prezzi Perché hanno iniziato con dei prezzi troppo alti Per cui se abbassano i prezzi anche noi forse qualcosa acquisteremo Magari anche il fatto delle tasse che colpiscono sia i cittadini normali che i commercianti E le gambe perché quel poco che uno voleva spendere con la tredicesima L'ha speso con queste tasse e basta Buonasera, in giro per il centro storico non è tanto pieno Però volevo chiedervi siete in giro per acquisti? No, stiamo facendo una passeggiata e basta così per prendere un po' d'aria Non c'è molta gente in giro come vede, forse siamo gli unici Periodo di saldi? Periodo di saldi però non ci sono soldi perché è aumentata la disoccupazione I politici stanno pensando alle poltrone Chi è senza lavoro rimane senza lavoro Quindi credo che saldi o non saldi la gente abbia difficoltà ad acquistare qualunque cosa Ad Alghero nello specifico, lei dove vede il problema? Ad Alghero penso che sia come tutti gli altri territori dove la disoccupazione aumenta Dove progetti di occupazione quasi zero E quindi credo che il problema sia comune a tutti, a tutti i territori Credo che ci sia bisogno di un atteggiamento più sensibile da parte dei politici Credo che bisogna rivedere un po' lo stato sociale e quindi la ripartizione del reddito Se no non se ne esce Non credo che sia un problema di destra o di sinistra Ma è proprio un problema di una situazione che si sta perdendo In quanto non ci sono più degli schieramenti politici che veramente stanno gestendo questo problema E quindi credo che stia sempre lievitando la disoccupazione, la disperazione e il disagio sociale Dopodiché come vedete basta passare in giro per le vie Ma così ad Alghero, così a Sassari e così credo sia in tutta la Sardegna ma anche in tutta Italia In giro per il centro storico, volevo sapere da lei Insomma alla fine le persone che mi hanno intervistato prima di lei ci hanno fatto notare Ma non è difficile notarlo che comunque in giro ci sono poche persone Periodo anche di ribassi, si aspettava questo periodo magari per poter acquistare un po' di più Perché a Natale non è andata bene e così anche a Capodanno Lei? Non è andata bene perché ci ha aumentato troppo con le tasse E quindi non ci sono altri soldi da quello che si guadagna per poter spendere in altri modi Al Ghero? Al Ghero come anche altre città Io vengo anche da poco, un anno a questa parte da Toscana è uguale Cioè ora lavoro qua a Al Ghero ma c'è poca gente in giro perché non possono spendere La gente per stare in giro senza spendere perché d'altronde si esce anche per poter spendere Per stare in giro a girare come scemi molti stanno a casa Secondo lei che cosa dovrebbe fare l'amministrazione? L'amministrazione più la politica più che altro Dovrebbe rendere basse le tasse Salve signora, in giro per il Centro Storico Una domanda a lei, volevo sapere, è al Gherese? Sì Quindi vive da sempre ad Al Ghero? Sempre Ricorda un periodo di crisi come questo? No, assolutamente no Un anno che è stato così? No, quest'anno proprio peggio, peggio, peggio Per quanto riguarda ad esempio anche il periodo dei saldi? Uguale Non ci sono soldi Sì Al Ghero è triste? Molto Ma lei lo vede? Non c'è nessuno Sì, vederlo lo vedo, però magari comprare nei negozi entra No, 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 non c'è niente, i negozi sono vuoti Secondo lei che cosa si potrebbe fare signora? Qual è la causa e cosa si potrebbe fare? Darsi un po' da fare tutti, chi ci governa, non altro Comprerà qualcosa in questi saldi? No, niente E a Natale? Non ci sono soldi A Natale abbiamo lasciato un po' tutte le spese al posto loro È un periodo brutto 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 Dovrebbe essere migliore questo 2013 Ma me lo auguro L'assessorato ai servizi sociali informa che sono aperti termini per la presentazione dei piani personalizzati Gli stessi verranno predisposti con l'ausilio degli uffici dell'assessorato ai servizi sociali Prima del previo appuntamento telefonico Tutte le informazioni relative alla modulistica sono state pubblicate Nel videoclipo Nel sito di Facebook Grazie a tutti